Scrivono disperati al ministro del lavoro Nunzia Catalfo, al presidente della regione Puglia Michele Emiliano e alla direzione dell'Inps Puglia, i sindacati che rappresentano i 154 lavoratori dell'ex OM Carrelli, oggi Tua Industries. Nonostante gli ex dipendenti abbiano maturato i requisiti specifici per la mobilità in deroga e sottoscritto diversi accordi, ora tendono di riscuotere l'ammortizzatore sociale. La lettera è stata scritta dopo i recenti sit-in che i lavoratori hanno fatto davanti alla sede dell'assessorato regionale alla formazione al lavoro, una manifestazione che ha avuto il fine ultimo di sensibilizzare le istituzioni coinvolte affinché risolvano una situazione sempre più insostenibile per gli operai e per le loro famiglie. La mobilità in deroga, si sottolinea nella missiva, oggi è uno strumento fondamentale vista la lunga assenza di reddito da sette anni, soprattutto perché questo strumento trova valenza, perché inserito in un percorso di reindustrializzazione e all'interno di accordi tra istituzioni regionali, nuova azienda, comuni e parti sociali. Questo strumento diventa architrave non per un mero sussidio economico, dicono ancora i sindacati, ma per una base necessaria al ricongiungimento di quell'equazione tra società, lavoro e senso di appartenenza al proprio territorio e alle istituzioni. Arrivano buone notizie invece per l'accordo a Business Remote Solution Italia, dove grazie all'impegno dei sindacati è stato sventato il licenziamento di 99 lavoratori. Dopo una trattativa di tre mesi con la BRSI, azienda con sede a Bitrito, che opera nel settore informatico, si ritireranno le procedure di licenziamento e si metteranno in sicurezza gli addetti, avviando una cassa integrazione straordinaria della durata di un anno, dove sarà prevista la rotazione in maniera equa di tutte le lavoratrici e i lavoratori con anticipazione salariale da parte dell'azienda. Sarà inoltre attivato un percorso di incentivazione all'esodo per 40 lavoratori che potranno aderire in maniera volontaria. A breve l'azienda presenterà al Ministero del Lavoro e alle parti sociali un piano di resanamento che conterrà al suo interno anche quelle che saranno le prospettive future, contestualmente resterà aperto il tavolo regionale per monitorare la situazione.